Creare una bandiera simbolo a tema regata a Brindisi Corfu, un mare di storia. E questo è lo scopo del bando di concorso presentato a Brindisi presso Palazzo di Città e rivolto ai singoli studenti, gruppi composti da massimo 5 alunni o intere classi degli istituti di istruzione primaria e secondaria di Brindisi e provincia. Possono quindi parteciparvi tutti gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2020-2021, alle 5 classi della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Molto bella e apprezzabile questa iniziativa che connette la storica regata, ormai possiamo dirla, da Brindisi Corfu con il mondo della scuola, con i più giovani, con i ragazzi che magari non la conoscono, perché parliamo dei ragazzi delle scuole comprensive, degli istituti comprensivi. E quindi allargata anche alla provincia, uno sforzo che verrà chiesto ai ragazzi di ragionamento sul legame tra la città, il mare, queste sue radici e l'individuazione di un logo. L'Istituto Comprensivo Casale è orgoglioso, anzitutto, di poter dare il suo piccolo, diciamo, modesto contributo a questa iniziativa che si è radicata, diciamo, nella città di Brindisi, nella realtà brindisina e poi ha avuto questi sviluppi così importanti a livello di presenza di tante realtà del Mediterraneo. I ragazzi sono molto motivati a partecipare a questa iniziativa ed è utile, diciamo, secondo le finalità, poiché l'istituzione scolastica si prefigge, e finalità che vanno dalle aspettative nella crescita della responsabilità ambientale e anche per quanto riguarda le scienze motorie, la motricità, vela e scuola si sono sempre ben sposate.